Favorito netto sotto la pari Rodolfo Park 1,57 la quota al totalizzatore 2.100 in metri da percorrere macchina che va per lasciare i concorrenti. Parte prudente Rodolfo Park, c'è lotta per il comando, poi emerge con il numero 4 Roccia Killer Gar che si porta all'esterno Rolandin Ronco, quindi più indietro alla corda il numero 3 Red Mile of Lions che precede a sua volta il 2 Roccolo Jet. 200 dopo i cento iniziali in 15 e mezzo da parte di Roccia Killer Gar con ora all'esterno la pressione da parte di Rolandin Ronco mentre Rodolfo Park inizia a risalire viene anticipato nel suo incedere da Roccolo Jet. Roccolo che va su Rolandin Ronco che nel frattempo era passato e ne rileva il comando 32.400 per Roccolo Jet che ora arriva al paletto dei 600 da leader. Nel frattempo Rodolfo Park si porta all'inseguimento del Battistrada, c'è stata la rottura alla conseguente squalifica di Rolandin Ronco 47.2 i 600 di corsa con i due più attesi che sono ora già testa a testa al passaggio davanti alle tribune dopo 800 metri passati in 1.3. e quindi Roccolo al comando Rodolfo che lì a mezza lunghezza poi più indietro ci sono alla corda Roccia Killer Gar e Romina Lewis per linee esterne invece gravita il numero 6 di Rodney Lewis. 1.17.7 il passaggio al chilometro da parte di Roccolo con sempre in schiena Rodolfo poi Roccia Killer Gar all'esterno rimane Rodney Lewis quando siamo a 800 dal traguardo con in mezza ruota Rodolfo che vuole trovarsi da destra libera al momento di sferrare l'attacco che probabilmente arriverà presto ma davanti intanto Roccolo fa buona guardia i 400 vanno al palo nella ditta di fronte sono in 31.9 si arriva così agli ultimi 400 metri di corsa posizioni che non mutano ora c'è l'attacco da parte di Rodolfo a Roccolo che arriva al miglio in 2.38 i due appaiati lungo la piegata con Roccolo che cerca di replicare a Rodolfo che guadagna però qualcosa nonostante la corsia esterna e si presenta da leader all'ingresso in dirittura prova a rientrare Roccolo Rodolfo allarga un pochino ma è già davanti di dietro si fa vedere Roccia Killer Gar Rodolfo Parca al comando nei confronti di Roccia che va su Roccolo Jet e niente Rodolfo Parca viene a concludere bene nei confronti di Roccia Killer Gar Roccolo Jet e poi ancora Romina Lewis 2.33.9 per i 2000 metri che significa 1.16.6 di media al chilometro per Rodolfo Parca che come nelle previsioni 1.52 la quota al totalizzatore viene a vincere correndo agli ultimi 400 in maniera decisiva andando a spodestare dal comando Roccolo Jet e resistendo al ritorno di una Roccia Killer Gar che comunque corre molto bene e si prende la piazza d'onore quindi 2 per il primo, scusate 1 per il primo, 4 per il secondo, 2 per il terzo e quindi 1 per il primo, 2 per il primo, 5 per il primo e 1,2 per i quando la-4 per il primo, mange fintre.